Buon lunedì! Ho già cantato e però poi questo ranteghetto qua mi sa che anche con il riso dobbiamo smetterla, cioè rallentare ancora ancora di più. Stamattina vi sono assaggiata due belle fettine della mia torta preparata ieri per un po' di vicini e per casa ovviamente. Per i vicini ho fatto formato muffin. Sono carini, eh? Pirottini! Vai, sono contenti quando vedono anche il pirottino! Bene, adesso devo distribuire l'ultimo, devo consegnare l'ultimo e porto un po' la minua a spasso, anche se fa un freddo becco, nonostante il sole, fa freddo l'aria gelida. E andiamo, andiamo perché la minua era inquietta, questa notte alle due noi eravamo qua nei dintorni perché abbaiava, abbaiava, ma di pancia si vede, perché mangiava una sfondona, legala su tutte le parti, quando andiamo anche in casa delle persone. E quindi stanotte noi eravamo qua nei pressi di casa a farla camminare, noi, io e lei, ma non si stava male. C'era un cielo meravigliosamente stellato, che spettacolo! Perché poi qua di inquinamento luminoso non ce n'è tantissimo, siamo abbastanza distanti da Viterbo, ancora di più da Roma, quindi il cielo è bello, è proprio nero, è proprio profondo, è luminoso, è un nero liquido quando non c'è foschia. Ma l'argomento è, ma solo in casa mia si perdono i guanti come i calzini, tre guanti, tutti e tre, scompagniamo. Cashmere lana, 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 e poi gli avevo mescolato una misto lana e alpaca sottile. E questa invece è l'alpaca baby, naturale nel colore, l'alpaca delle mie parti, l'alpaca di calice del cornoviglio, che poi è una frazione di calice dove si trovava l'allevamento. Non mi sono più informata, anche perché la signora aveva cominciato a far mischiare la sua meravigliosa lana con il suo filato di alpaca, le sue fibre di alpaca con altre di lana per avere più resa, per avere un filato più economico, perché poi è difficile mantenere la qualità che lei pensava, perché lei faceva filare la prima tosa delle sue alpaca, e poi le alpaca crescono. Però la fa filare, credo che l'abbia fatta filare, a Cutigliano, che è una filanda penninica toscana, un'antica filanda penninica, della quale io ho qualche campione e ho anche lavorato diversi filati prodotti da loro e mi sono piaciuti proprio tanto. Il signore, uno dei proprietari, presenziava anche con i propri prodotti, lavorati a telaio, telaio semimeccanico, credo, alla fierucola della lana a Firenze, che è un bellissimo evento. Allora, la lana a Firenze la vendevano alle varie fieruccole, credo che ce ne dovrebbe essere una, ce ne doveva essere una al mese, ed era a tema. La fierucola dei pastori mi pare che fosse a settembre, settembre-ottobre. E in questi ultimi anni si sono sempre beccati di quei diluvi universali che se non si è più che attrezzati, un problemaccio per vendere il tessile, soprattutto la lana, quando tu esponi i filati, lana, seta, quello che vuoi, e ti prendono tutta quell'umidità e devi riporli, ti puzzano, hai il problema di fare, riasciugare tutto, poi se viene col vento è un disastro, veramente fare i mercati con il tessile è di una fatica, di una fatica, non si sa mai, le spese sono sempre certe, i guadagni menché meno. Il bello della fierucola, io ho partecipato dando una mano a una persona e me la sono divertita, a parte per i profumi, i personaggi, ma i personaggi che c'erano alla fierucola. E mi sono comprata dei bei ferri in bambù, tra l'altro ferri da una parte e lato opposto un cinetto. e ho acquistato cose belle, ho mangiato cose buone, all'epoca mangiavo ancora pane di tutto un po', e c'era un personaggio grandissimo che sembrava mangiarfuoco, aveva una bancarella molto piccola, una sorta di bracere, e un toccone di caciottone, non mi ricordo quale formaggio, che cadava dall'alto, legato, fissato a un qualcosa in alto, adesso non ho presente sta sorta di carrucola, però mi impressionava sto cosone che abbassava sulla griglia, faceva squagliare sulle fette di pane, mi pare, o sulla griglia stessa. Non so, perché io ho in mente questo movimento di carrucola verso il basso, una lama che staccava la parte cremosa del formaggio, e poi farciva con altre cose. Io me ne sono scofanata, ma che fame, che buono, già ho fame a pensarci. E poi le bancarelle dei prodotti agroalimentari meravigliose, i fiori, ma di tutto, cose buone, ma biologiche, di piccole realtà toscane. E quindi mi ricordo, mamma mia, la corsa, perché va fino all'ultimo, stetti lì la corsa tutta piena di fagotti, fino a stazione. Ah, che bello poi non dover cambiare treno, ma una fatica. Poi, mamma mia, ero puramente carica. La ferrucola della lana. È una cosa bella, bella viversi in Firenze. È bella. La volta che andai, un sole, un becco, un caldo becco, con la pietra calda, ma era bello, rostire lì, poi freschetto la sera. Vabbè, comunque, torno ai miei guanti. Sono tutti i guanti fatti a mano? Sono tutti i raminghi, poverini. Oh, sì, c'è ancora la codina questa qua. Ecco, bene. Adesso ho preparato un vocalone anche. Adesso guardo se è decente perché mi si è stoppato, mi si è spento il telefono in mano, era scarichissimo. E ma vi lascio questo buongiorno così. È così. Ora noi usciamoci. Non volete lì? Usciamo. Che si mangia a casa vostra oggi? Io non ci ho pensato. Grazie.